Affrontiamo Affrontiamo Iniziamo Se sono passato io, passeranno tutti. Il passaggio, se passi di più nel 5, quando lì poi c'è il posto, non si passa più. Dobbiamo cercare di... il problema è che non c'è altra soluzione. Non c'è nessun'altra soluzione, se no proprio si deve spaccare quella pietra lì e abbassarla. Qua se gli spacchi la pietra praticamente gli enduristi si spaccolano la testa. E' uno dei tratti più belli che c'è. L'F800, ragazzi, è troppo bello. Aiutiamo Ale. Che c'è una puzza di gomma e frizione. La continua intanto? Io Mitas me ne tengo strette. Comunque tu sei passato bene. Pulito, pulito, pulito. Mi tenerei una grande moto. Alessandro, devo dire che...